buongiorno buongiorno ben svegliati e benvenuti alla prima puntata di una nuova rubrica firmata fabioabrosi.it una rubrica che andrà in onda ogni mattina alle 8 qui su youtube dedicata alle notizie di attualità accadono moltissime cose nel mondo non solo fatti brutti non solo fatti drammatici di cronaca e voglio raccontarvi un po quello che accade e chiaramente parlando di temi inerenti quelli che sono gli argomenti che quotidianamente affrontiamo sul sito www.fabioabrosi.it quindi informatica sicurezza informatica nuove tecnologie video streaming applicazioni per fare video applicazioni per fare streaming serie televisive programmi tv eccetera eccetera insomma avete capito un po di quello che parleremo oggi parleremo di uber e di un attacco hacker che ha visto protagonista purtroppo la multinazionale la settimana scorsa lo dico col sorriso perché per fortuna tutto dovrebbe essere andato per il verso giusto e nel migliore dei modi ma veramente la società se l'è vista veramente brutta e questa volta gli hacker non hanno fatto fatto troppa fatica insomma ad entrare nei sistemi informatici della multinazionale tra poco vi dirò meglio quello che è successo ed è molto interessante è molto importante saperlo anche per evitare che accada a noi ok perché in qualche modo ci riguarda prima però voglio dire una cosa a tutti quelli che seguono questo canale youtube e che seguono i miei video tutorial e i tutorial sul sito www.fabioabrosi.it alla fine di questa prima puntata restate fermatevi un po come si fa alle feste fermatevi un secondo perché vi devo parlare e vi devo raccontare rapidamente due o tre cose che riguardano i corsi e i nuovi progetti che stanno per partire su www.fabioabrosi.it quindi se siete interessati a questa cosa fermatevi perché ne vale la pena detto questo iniziamo subito uber bene tutto è iniziato venerdì notte intorno alle 3 del mattino in italia tutti dormivamo nessuno si è accorto di nulla ma su twitter uber ha lanciato una allarme siamo sotto attacco i nostri sistemi sono stati violati beh all'inizio come spesso succede in questi casi non si sa veramente che pesci prendere non si sa quanto l'attacco sia grave non si sa se è stato compromesso qualche servizio e non si sa quali siano soprattutto le intenzioni dei sabi cyber criminali poi con il passare delle ore sia il new york times che il washington post e altri quotidiani hanno indagato insieme chiaramente ovviamente agli esperti di sicurezza informatica della società stessa e si è scoperta la verità non era un gruppo di hacker non era un gruppo criminale internazionale a seminare il panico ma era un ragazzo di 18 anni che da casa sua è riuscito sì ok non la sto facendo semplice però nemmeno in maniera troppo articolata e complessa ad acquisire le password e le credenziali di alcuni sistemi informatici di uber e tendenzialmente a potenzialmente fare un po quello che voleva che cosa è accaduto questo ragazzo di 18 anni che poi si è scoperto aver parlato lui direttamente con il new york times con il washington post e altri quotidiani in realtà cercava semplicemente visibilità e pubblicità per carità bravo è un hacker a tutti gli effetti è riuscito con tecniche di social engineering ad entrare nella chat slack di uber a parlare con gli ingegneri di uber a farsi dare in qualche modo anche le credenziali per entrare nei sistemi informatici della società però poi per fortuna non è stato richiesto nessun riscatto e quello che poteva effettivamente essere un poteva veramente finire molto male pare che si sia risolto tutto con un grande spavento che cosa ha insegnato questa storia beh ha insegnato che bisogna stare molto attenti e che soprattutto se anche l'azienda per cui si lavora ha dei firewall molto potenti e dei sistemi di sicurezza informatica all'avanguardia il punto debole rischia sempre di essere il fattore umano se un dipendente di una società apre per sbaglio un allegato che contiene un virus o come nel caso di uber senza volere perché per carità non è poi colpa al cento per cento in questo caso di dipendenti di uber però se non si presta la massima attenzione e si inseriscono non so le credenziali e le password su documenti condivisi basta una piccola disattenzione e si rischia di dare letteralmente le chiavi di casa a criminali a criminali informatici questo ragazzo di 18 anni non ha chiesto riscatto per fortuna tutto è finito a quanto si è appreso nel migliore dei modi nessun servizio è stato compromesso nessun dato sensibile è stato rubato ma questa storia in qualche modo serve di lezione perché dobbiamo stare attenti l'ho detto già molte volte anche nel corso base di informatica qui su youtube quando si sta su internet si naviga e si leggono le email o si va sui siti internet di cui non si conosce bene l'origine bisogna stare molto 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 attenti perché il pericolo di cadere in delle piccole grandi trappole è sempre dietro l'angolo qualche consiglio beh innanzitutto quando usate la posta elettronica fate sempre molto attenti a dare dati personali specie della banca specie dei vostri account a presunte società che vi chiedono queste informazioni nel 99,9 per cento dei casi mai nessuno vi chiederà password o informazioni sensibili via email quindi non datele ok questa è la prima regola seconda regola non andate su siti internet di cui non siete certi no spesso si vedono in giro dei link della serie hai vinto un milione di euro clicca qui per riscuotere il premio ecco se hai vinto veramente un milione di euro non verranno a chiederti a chiederti di ritirare il premio non sei mai visto di qualcuno che vince il super enalotte viene cercato poi per esempio dal monopolio degli stati dello stato per per andare a riscuotere il premio ecco state molto attenti quando vi muovete su internet detto questo bisogna avere paura no assolutamente no internet è un posto sicuro basta semplicemente avere la giusta consapevolezza tutta la storia di uber l'ho raccontata su un articolo sul mio sito fabbiambrosi.it quindi se vi interessa approfondire andate sulla pagina sulla mia home page e cercate cercate questo articolo ogni giorno vi racconterò una storia diversa non per forza così angosciante come può essere questa di uber ma parleremo veramente di tante cose quindi ogni mattina alle 8 ci troveremo qui per prendere il primo caffè della giornata insieme e termina qui questa prima puntata del caffè di fabbiambrosi.it detto questo adesso veniamo all'angolo dedicato agli affezionati del canale youtube e di tutti coloro che in tanti tutti i giorni seguono i video tutorial che ho preparato per premiere per after effect eccetera eccetera la notizia è che sto lavorando a dei nuovi corsi gratuiti tra virgolette vi spiego tra un secondo perché riservati dedicati sia a premiere pro perché negli anni premiere è cambiato è cresciuto ci sono molte nuove funzioni e sia chiaramente ad after effect per accedere a questi corsi che sono molto più veloci rispetto al super mega corso che ho preparato qualche anno fa l'unica cosa che vi chiedo è di abbonarvi a questo canale youtube il costo non è alto e parliamo di 3 euro al mese quindi 3 caffè al giorno magari 3 caffè a settimana no 3 caffè al mese che mi andate ad offrire quindi 3 euro al mese e l'iscrizione vi dà diritto ad accedere a questi corsi esclusivi e ad altre piccole novità altri piccoli vantaggi che stanno per arrivare per esempio un forum dedicato a tutti coloro che vogliono scambiarsi informazioni ecco chi si registra e si abbona a questo canale youtube avrà accesso ad un'area dedicata del forum in cui parleremo in maniera molto più diretta e interattiva altra notizia è che stanno per partire i corsi di formazione invece per adobe premiere pro e di after effect corsi di formazione a distanza che cosa sono sono dei corsi che io terrò su skype o su zoom in maniera interattiva quindi ci sentiremo su skype su zoom parleremo ci confronteremo spiegherò qualcosa e voi potrete fare le vostre domande è un corso per quanto riguarda premiere pro di 24 ore e quindi abbiamo tutto il tempo per approfondire al meglio il funzionamento di questo meraviglioso software mentre il corso di after effect avrà una durata di 30 ore beh after è un po più complicato quindi serve un pochettino più di tempo per prenderci familiarità se volete partecipare a questi corsi di formazione vi chiedo di inviarmi una mail ad info chiozzola fabioambrosi.it sarò felice di darvi tutte le informazioni che desiderate tra qualche settimana partiamo quindi ecco se siete interessati sbrigatevi e prenotate i posti perché appunto i posti non sono infiniti le classi su skype su zoom saranno di poche persone in maniera che possiamo parlare in maniera un po più intima ecco mettiamola in questo modo termina così questa prima puntata della rubrica del caffè di fabioambrosi.it ci vediamo domani se volete alle 8 sempre qui su youtube mi raccomando condividete questo video mettete un like commentate voglio sapere quello che pensate quindi commentate e se non siete registrati questo sì è gratuito non costa nulla registratevi a questo canale youtube cercatemi anche su instagram cercate fabioambrosi o meglio ambrosifabio e spunterà il logo di fabioambrosi.it e cliccate su segui e seguitemi anche su instagram e facebook grazie a tutti buona giornata ci vediamo domattina e puntuali ciao